Ancora Totti Palla sul secondo palo, Samueno la trova La trova Dacour, controbalzo, ancora fuori Dacour di destro, Olivier! Dacour, 1-0 Si, il primo tentativo di sinistro è stato ribattuto La palla gli è ritornata lì, l'ha tenuta bassa Secondo me Buffon non l'ha vista, si è infilata all'angolino Questo è un bel gol di Dacour, un po' trovato su questo calcio d'angolo Però lui è stato molto bravo a tenere la palla bassa Primo gol in Serie A per Dacour